Buon dici ora, ma il suor Fabregas veniva in posta. Chi che l'è? Il suor Fabregas, viene in posta. Chi che l'è su Fabregas? Allenatore! Pazzo mio! Benvenuti nella ridente bissone balzata recentemente agli onori delle cronache internazionali, perché qui abita, non si sa bene fino a quando, l'ex campione del mondo, nonché allenatore del Como in Serie A, Cesc Fabregas. Ma cosa pensa, signor sindaco, di questa situazione? Che bisognerebbe guardare, io non posso parlare di più di quel tanto, ma forse è meglio che vi interessate prima di far più grande il caso che non c'entra. È un litigio normale tra un proprietario di casa e l'inquilino. E stop! E stop! C'è un altro bip, c'è il mitico JK, ma allora questa questione di Fabregas, lui voleva semplicemente che gli riparassero i danni. Il padrone di casa non l'ha fatto e quindi poi lui ha smesso un po' di pagare l'affitto, ma insomma che idea ti sei fatto? Secondo me ha fatto bene, perché non bisogna pagare, perché bisogna pagare? Tutto bisogna pagare, no scherzo. Tu pensai con Fabregas? Io sono dalla sua parte, giusto così. Un po' strano però, lui cercava la privacy e è finito dentro in un calderone di... Assolutamente tanto, se io non pagavo l'affitto mi davo già la strata da un po', penso. Forse perché lui, non lo so. Averlo nel proprio comune, un campione del mondo, così, com'è? Sei emozionata, non ti ha mai emozionato? Assolutamente no, ho avuto un quiproquo con la signora Fabregas, ma va bene così. Sembra che pagasse 8.000 franchi al mese, vuol dire che aveva un super appartamento, non un appartamento. Però è accettabile che un super appartamento abbia quelle macchie perdite, eccetera. No, questo no, è per quello doveva reclamare prima, non pagare l'affitto. Dopo mille peripezie siamo arrivati davanti allo stabile che ospita la casa di Fabregas. L'avvocato di Fabregas ci ha assicurato che gli affitti arretrati sono stati pagati. Quindi, un appello al padrone di casa e mettigliela a posto sta casetta. Ehi, ehi, ciao! Com'è? E' lui! E' lui! Com'è che sembrava lui? E' lui! E' lui! E' lui!